Musica Videonews di giovedì 30 novembre, i titoli Operazione di controllo straordinario del territorio all'hotel house di Porto Recanati Sequestrata droga e scoperti irregolari L'assessore settempedano Jacopo Orlandani entra in Civici Marche, movimento rappresentato in regione dal consigliere Giacomo Rossi Un sold out targato Dardast inaugura la riapertura del Teatro Rossini di Civitanova in un viaggio davvero emozionante E nello sport la pallannuoto Tolentino in Serie B, prima sfida in casa per la formazione maschile di Omar Cappelloni sabato prossimo 2 dicembre Ben trovati anche quest'oggi all'appuntamento con il nostro Videonews Come avete sentito nei titoli di apertura partiamo con una notizia di cronaca perché al complesso residenziale di Porto Recanati o Telaus Sono stati eseguiti oggi dei controlli straordinari, identificati oltre un centinaio di occupanti, sequestrate sostanze stupefacenti e diversi migrati scoperti irregolari Ma scopriamo di più su questa operazione nel primo servizio di oggi Come concordato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica, presieduto dal sottosegretario Emanuele Prisco Nel corso della mattinata odierna a Porto Recanati, in attuazioni delle direttive del Ministro dell'Interno, il Prefetto Matteo Piantedosi Si è svolta l'operazione ad alto impatto al complesso residenziale denominato Telaus Con la specifica finalità di accertare la presenza di situazioni di illiceità ed in particolare di cittadini clandestini o comunque non in regola con norme sul soggiorno Di individui destinatari di provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria o gravati da provvedimenti di rintraccio e dal contrasto dei fenomeni illeciti Connessi alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio Come noto, il complesso residenziale privato è oggetto di costante monitoraggio attraverso le riunioni delle CPOSP e riunioni tecniche di coordinamento delle forze di polizia per garantire un'adeguata attività di prevenzione della criminalità predatoria e di potenziamento dell'azione di contrasto ai fenomeni legati allo spaccio tenuto conto anche della presenza di numerosi pregiudicati Nel corso dell'operazione sono quindi stati identificati oltre un centinaio di occupanti, sequestrati un quantitativo di sostanze stupefacenti e diversi immigrati in stato di irregolarità L'operazione odierna non esaurisce l'attività di monitoraggio verso l'hotel house Il Santa Claus Bus torna a regalare un sorriso ai piccoli pazienti dell'ospedale Salesi di Ancona L'iniziativa promossa dalla Commissione Regionali e Pari Opportunità farà tappa anche alla Lega del Filodoro di Osimo per allietare le festività dei tanti ospiti della struttura L'obiettivo, come spiega Maria Lina Vitturini, presidente della Commissione Pari Opportunità è quello di donare un momento di gioia e spensieratezza a famiglie e bambini Santa Claus con i suoi abitanti piccoli elfi saranno presso la sede della Lega del Filodoro dalle ore 9.30 alle ore 12 Si sposteranno poi allo stadio d'orico di Ancona dove alle 14.30 incontreranno alcune classi della primaria per chiudere il giro di consegna dei doni all'ospedale proprio Salesi, il tutto domani 1 dicembre Sabato 2 dicembre invece aprirà di nuovo a Macerata l'unico negozio di emergency delle Marche gestito dal gruppo volontari della città L'attività è finalizzata a sostenere i vari progetti in Italia e nel mondo Il lavoro di emergency che dal 1994 ha curato quasi 13 milioni di persone a livello mondiale si può realizzare grazie alla generosità di migliaia di sostenitori e volontari e all'impegno umanitario degli operatori di emergency stessa Sabato prossimo tutte le sezioni e le classi dell'Istituto Comprensivo Tacchi Venturi di San Severino allestiranno una mostra a mercato dei lavori prodotti per raccogliere fondi per supportare i progetti UNICEF di sostegno ai bambini coinvolti nelle guerre e per sostenere anche il progetto interno dell'Istituto Scolastico di Aiuto alla Fragilità L'iniziativa dal titolo Insieme per l'UNICEF si terrà nel pomeriggio dalle ore 16 in Piazza del Popolo Il consigliere regionale Giacomo Rossi ha tenuto proprio quest'oggi una conferenza stampa a San Severino Marche per ufficializzare l'ingresso in civici Marche dell'assessore Jacopo Orlandani La presenza all'incontro di diversi amministratori del movimento provenienti da tutte le marche è attesta all'importanza di questa giornata ma scopriamo di più nelle interviste realizzate ai protagonisti che vi proponiamo nel servizio Conferenza stampa giovedì 30 novembre alla Sala Leandri del Teatro Ferroni a Settempedano indetta dal consigliere regionale Giacomo Rossi per ufficializzare l'ingresso dell'assessore Jacopo Orlandani nel movimento civici Marche Con il consigliere regionale Giacomo Rossi parliamo della nascita di questo nuovo movimento civici Marche che lei ha definito l'unico movimento civico strutturato della nostra regione Certo, la nascita qui a San Severino Marche dove c'è stata appunto l'adesione dell'assessore Orlandani un passo importante nella strutturazione del nostro movimento in tutta la regione perché Jacopo ha un ruolo istituzionale importante rappresenta una città importante, ha dietro di sé una storia politica importante ha un consenso importante e quindi per noi oggi è un giorno speciale Un giorno importante quindi per questo ingresso dell'assessore Orlandani all'interno del vostro movimento su cui si punta a favorire maggiore attenzione anche per il territorio settempedano? Certo, il nostro movimento regionalista è territoriale, civico che ha come unico obiettivo l'interesse dei marchigiani e quindi dei territori quindi con l'ingresso di Jacopo cercheremo di portare avanti ancora con più intensità le esigenze della provincia di Macerata e del territorio settempedano E il suo motto resta? La politica che lavora, lavorare sodo per il territorio? Sì, il nostro motto è questo, la politica che lavora perché noi veniamo dal basso veniamo dal lavoro e quindi portiamo queste idee nella politica quindi poche chiacchiere fatti e quindi è quello che vogliamo fare anche per questo territorio Siamo con Jacopo Orlandani, parliamo di questo tuo nuovo ingresso nel movimento Civici Marche Un passo importante per lei, arrivato dopo ben sette anni da amministratore qui nella città di San Severino Marche Sì, oggi abbiamo scritto la prima parte di un percorso in questo movimento civico, mi hanno contattato diversi mesi fa sono onorato di questo, ringrazio Giacomo Rossi e il suo staff per avermi avvicinato abbiamo fatto diverse riunioni per parlare un po' di tutto quello che sono le situazioni siamo giunti ad oggi appunto che sono entrato in questo movimento sono entrato in questo movimento per portare le esigenze e le istanze dei territori vengo da sette anni di amministrazione su una lista civica e quindi ho toccato con mano quanto il civismo è importante perché io la definisco un po' la politica a chilometro zero cioè quella politica che porta dalle piccole esigenze alle macro esigenze a cercare di risolverle quindi è vicina ai cittadini, vicina alle esigenze e in questo percorso che voglio fare in Civici Marche cercherò di portare tutta la mia esperienza maturata in questi anni appunto di amministrazione dove tanto abbiamo fatto qui a San Severino tante emergenze abbiamo affrontato penso anche nel migliore dei modi perché comunque abbiamo avuto anche un consenso importante due anni fa quando ci siamo ripresentati e quindi appunto perché quella politica a chilometro zero ti premia o non ti dà quindi sono stato molto contento appunto di essere stato contattato ringrazio la mia maggioranza e il sindaco che ha presa la notizia mi hanno supportato in questo e sono stati anzi molto contenti tutti e io voglio soltanto portare il mio cercare in questa provincia di farla rappresentare quelle che sono le esigenze che sono tante difficoltà e di poter fare questo percorso nel miglior modo possibile anche perché poi Civici significa anche oltre una politica a chilometro zero anche libertà liberi da tanti schemi per il 2 dicembre alla Domus San Giuliano di Macerata è attesa la prima giornata regionale dell'agricoltore scustode dell'ambiente e del territorio un appuntamento voluto con forza dalla Copagri Marche per affermare il ruolo centrale dell'agricoltore come custode del territorio e dell'ambiente l'agricoltore ha infatti un mestiere difficilissimo perché condizionato da tanti fattori esterni con tante competenze conquistate sul campo e proprio per questo è giusto riconoscere con forza questa figura anche a livello nazionale verranno premiate nell'occasione anche 30 aziende agricole delle marche che si sono distinte in vari settori il futuro della nostra società deve essere orientato al rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e le modifiche recenti della carta costituzionale lo dimostrano è questo il messaggio lanciato da Fabrizio Mari generale dei Carabinieri, comandante dell'unità forestali, ambientali ed agroalimentari della regione Emilia Romagna ospite l'altra sera dell'incontro organizzato da Rotary Tolentino in Interclub con Camerino e Macerata il generale ha affrontato il tema tutela della biodiversità e degli ecosistemi forestali per la salute e la sicurezza ambientale argomento questo di grande attualità che ha suscitato grande interesse tra i partecipanti e il Rotary Tolentino presieduto da Giorgio Zaganelli ha organizzato un altro incontro in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne dello scorso 25 novembre per sensibilizzare l'opinione pubblica quella violenza che ad oggi viene considerata una vera e propria emergenza per quest'anno si è deciso di affrontare il tema con il Maggiore Giulia Maggi comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tolentino e con la psicologa e psicoterapeuta Sonia Del Savio, sempre di Tolentino l'incontro si è tenuto al ristorante Chiaroscuro di Belforte e si è rivelato alquanto interessante e partecipato il Maggiore si è soffermato sulla tutela delle vittime di violenza di genere come settore strategico nell'ambito delle politiche di prevenzione e contrasto poste in essere dall'arma dei carabinieri la Del Savio invece con la sua relazione silenzio assordante ha sottolineato che bisogna fare attenzione a non confondere l'amore con il possesso approvata in consiglio regionale la nuova legge urbanistica dopo ben 5 sedute in cui si sono discussi 400 emendamenti in un animato dibattito ma scopriamo di più nelle servizioni la regione Marche ha una nuova legge urbanistica dopo 31 anni l'assemblea legislativa ha approvato a maggioranza il testo che contiene i 36 articoli della pianificazione per il governo del territorio il cammino non è stato facile dal momento che sono state necessarie ben 5 sedute all'interno delle quali ha trovato spazio la discussione di 400 emendamenti ed un dibattito davvero animato il testo prevede un'approvazione successiva dei pug per i comuni dovremmo noi approvare il piano paesaggistico regionale e dovremmo adeguare tutti gli strumenti far partire con una copianificazione la nuova visione del territorio che dovrà coinvolgere tutti gli enti e dovrà anche coinvolgere le realtà economiche e associative perché poi i sindaci e anche noi come regione dovremmo saper recepire quelli che sono gli input che ci vengono sottoposti è una nuova fase che saprà dare le risposte e soprattutto saprà valorizzare un percorso comune e questo è il succo di questo nuovo articolato io non nascondo la volontà di migliorarlo laddove sarà possibile migliorarlo e di anche sistemare quelle che potranno essere le difficoltà che calando questo articolato questa nuova legge sul territorio nella pratica si potranno trovare credo che sia sinonimo di intelligenza e di volontà di anche saper umilmente mettersi a disposizione di quelli che sono le sfide complicatissime che una materia come quella urbanistica comporta però penso anche che era giusto dare alla nostra regione dopo oltre 30 anni un nuovo strumento che possa essere in grado di portare la nostra regione a vivere le sfide future con certezze coerenza rispetto anche alla vocazione dei nostri territori e cercare di limitare quelle fughe che portano a macchie di leopardo una visione di territorio a macchie di leopardo che danneggiano la nostra prospettiva futura anche come realtà competitiva e come tenuta di un valore di un patrimonio che è quello del territorio appunto a cui noi teniamo tantissimo perché riteniamo che il territorio rappresenti il più grande patrimonio di cui noi disponiamo e vorremmo lasciarlo nella migliore condizione possibile a chi verrà dopo di noi sono due anni che come assessore come uffici regionali stiamo lavorando per portare appunto a compimento questo normativo perché è una legge assolutamente necessaria una legge necessaria perché la legge precedente risale a 32 anni fa quando la programmazione era completamente diversa le esigenze dei territori erano completamente diversi questa legge è una legge molto innovativa che tra virgolette obbligherà tutti gli enti locali della regione Marche a rivisitare la programmazione dei propri territori a uniformarli tra loro infatti prevede un nuovo piano paesaggistico entro il prossimo anno poi prevede entro i sei mesi successivi un piano territoriale regionale ulteriormente rivisitato nei sei mesi successivi il piano territoriale di coordinamento delle cinque province e successivamente nei due anni successivi anche tutti i nuovi piani urbanistici generali cioè gli attuali piani regolatori dei comuni che dovranno essere tutti rivisitati come dire un territorio che era un po' imbalsamato dalle vecchie norme superate complicate che non si riuscivano mai a rivisitare perché erano complicate le varianti da portare avanti eccetera invece viene completamente rivisitato con dei nuovi criteri nuovi parametri nuovi criteri che tendono in generale a prevedere un consumo di suolo minimo indispensabile non dico zero perché zero è sempre impossibile arrivare a questo obiettivo ma che punta molto sulla rigenerazione urbana sul riutilizzo di territorio già utilizzato quindi l'efficientamento energetico il costruire sul costruito diciamo è un po' come dire abbelliamo la nostra regione e rendiamola più sicura di quanto già è stato su quanto già è stato costruito domani primo dicembre torna la notte del divini l'iniziativa patrocinata dal comune settempedano alla sua seconda edizione rappresenta un'esperienza unica e stimolante che unisce cultura orientamento e divertimento a promuoverla docenti e studenti dell'istituto tecnico tecnologico statale esperti del settore parleranno del ruolo significativo delle donne nell'ambito scientifico coinvolgeranno gli studenti attraverso il gioco alla scoperta dell'offerta formativa dell'istituto stimolando una riflessione attiva sulla scelta dell'istituto superiore il tutto allietato dalla musica delle ragazze dei ragazzi e dei prof alle 18.30 tavola rotonda dal titolo la scienza è donna donne scienza e creatività alle ore 20 pausa poi la notte del divini riprenderà con il divini game in chiusura momenti musicali a cura dei docenti e degli studenti uno show di musica grande e suggestioni quello proposto invece ieri sera Civita Nova Marche da Dardas che ha con il suo spettacolo Duality più Guest dato il via a Bentornato Teatro Rossini lo spettacolo è sciato accolto da una pleatea che ha fatto registrare il sold out con l'artista che sul palco ha incantato il pubblico con momenti di pura poesia ed energia in un viaggio emozionante ospite della serata anche il bassista Saturnino che ha ulteriormente riscaldato l'atmosfera e l'amministrazione comunale di Castelremondo ripropone anche quest'anno il format Un Natale da favola evento gratuito dedicato ai bambini e realizzato dall'associazione Immaginaria l'appuntamento è per domenica 3 dicembre dalle ore 15 ai giardini pubblici con tanti personaggi delle fiabe laboratori attività giochi ed anche babbo natale si potranno realizzare le letterine colorare delle fiabe giocare con palloncini mattoncini colorati arte tattoo favole riciclo creativo sarà l'associazione gongolando a curare animazione e laboratori primo weekend di dicembre subito via al ricco calendario di eventi natalizia a Castelremondo si inaugura invece sabato 2 dicembre la mostra di pittura per un pugno di colori di Miroriga organizzata sempre dal comune di Castelremondo con l'Uteam la pasta di Camerino e Borgo Lanciano il taglio del nastro è fissato per le ore 18 in Piazza della Repubblica e per l'occasione interverrà anche il noto giornalista Attilio Romita Vladimiro Riga ex pugile e promoter di spettacoli è un artista autodidatta che ha ritrovato la passione per la pittura dopo tanti anni in cui l'aveva messa nel cassetto nei mesi scorsi Riga aveva già esposto alcune sue opere a Falconara ed ora torna con una mostra personale a Castelremondo fascismi ieri e oggi due incontri nel fine settimana con l'autore Davide Conti storico e consulente della procura di Bologna per affrontare la tematica prima a Caldarola e poi a Sarnano ne abbiamo parlato quindi nei nostri studi con due ospiti fascismi ieri e oggi due imperdibili appuntamenti con la storia il primo sabato 2 dicembre a Caldarola il secondo il giorno successivo 3 dicembre domenica prossima a Sarnano qui con me Giorgio Roselli rappresentanza dell'AMPI 5 comuni e Simone Valli rappresentanza dell'AMPI sezione deccio filipponi della città di Sarnano con te Giorgio iniziamo subito a parlare di quello che ci sarà sabato prossimo a partire dalle ore 17 con un importante autore sì beh diciamo sarà una due giorni un fine settimana molto interessante abbiamo invitato e lui ha accettato sempre come sempre piace venire nella nostra zona Davide Conti e allora Davide Conti è uno storico molto importante molto importante per la sua capacità per la sua meticolosità nella ricerca è stato e è tuttora consulente storico per la procura di Bologna che sta indagando finire in diari sulla sulla strage è stato consulente storico a Brescia per la strage di Brescia e quindi ha maturato una grandissima conoscenza degli eventi dal dopo guerra fino ai giorni nostri quindi sarà qui per due giorni e abbiamo scelto questo titolo anche perché è un excursus è un excursus nazionale e internazionale e dopo parleremo meglio magari dei due libri e quindi di eventi che hanno una una grossa attualità ancora adesso e quindi la persona Davide Conti è la persona diciamo più indicata per questo Alla Casa Chito di Caldarola si parlerà di fascisti contro la democrazia mentre Simone nell'oggiato di via Roma a Sarnano l'incontro sarà incentrato sull'anima nera d'Europa Sì come diceva Giorgio io aggiungerei solamente che siamo nelle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario dell'inizio della resistenza e l'anno prossimo saranno gli 80 anni della liberazione dei nostri territori diciamo la resistenza si inquadra diciamo su un piano internazionale per cui abbiamo pensato di diciamo sviluppare un discorso su quello che è oggi il risorgere dell'estrema destra a livello europeo quindi il libro parla proprio di questa crisi sociale politica che sta investendo l'Europa nei singoli stati ma anche nella stessa istituzione dell'Unione Europea quindi cercheremo di capire le dinamiche che stanno portando avanti diciamo questo risorgere del pericolo fascista e sempre molti giovani si stanno avvicinando sempre più in questi anni alle attività che voi realizzate sul territorio sì l'obiettivo è quello lì perché poi come diciamo è una frase usuale i giovani sono il futuro per cui diciamo partendo dalle radici nostre quindi dalla resistenza antifascista guardiamo al futuro un evento questo ad ingresso libero c'è bisogno di prenotarsi? assolutamente no anche se vorremmo che fosse così perché significa che c'è molta gente non perdete quindi questi due interessanti incontri con lo storico Davide Conti sabato 2 domenica 3 dicembre prima a Caldarola e poi a Sarnano e ringraziamo i nostri ospiti il centro arancia struttura residenziale centro diurno per persone diversamente abili ente titolare comune di Tolentino gestione cos Marche Ollus promuove una mostra d'arte allestita alle gallerie di Palazzo San Gallo gli ospiti delle due strutture guidate dagli educatori si sono cimentati nella riproduzione di opere d'arte realizzate in varie epoche da vari artisti della scena per lo più contemporanea Kandinsky Klee Banksy Picasso Mondrian e Miroma anche Van Gogh l'esposizione sarà aperta e visitabile dall'1 al 10 dicembre presso le gallerie espositive la cerimonia di inaugurazione si terrà domani a partire dalle ore 15 e 30 primi eventi inseriti anche nel cartellone delle manifestazioni promosse dal comune di Tolentino per le festività natalizie si inizia proprio domani venerdì 1 dicembre alle ore 21 e 15 al teatro Vaccai Pietro Morello presenta Non è un concerto con la regia di Mauro Simone Morello artista e creator torinese che a soli 24 anni ispira ogni giorno milioni di followers debutta a teatro con questo spettacolo prodotto da Compagnia dell'Arancia e Midriasi una sorta di viaggio nella sua mente vista finora solo attraverso le lenti dei social per sperimentare insieme a lui la felicità di avercela fatta non è un concerto accompagnato da una spremuta di musica originale insieme a brani celebri tra racconti sul sentirsi bambini e sulla voglia di riscatto e sempre domani alle ore 21 e 15 il Politeama ospita la presentazione del secondo libro scritto da Andrea Mosca dal titolo Tolentino via vai dedicato ad approfondire l'odonomastica dei quartieri fuori le mura alla presentazione interverranno la presidente dell'Accademia filelfica Isabella Tonnarelli ed il giornalista Luca Romagnoli che dialogheranno con l'autore Mosca con dovizia di particolari e specifici approfondimenti consente al lettore di fare un vero e proprio viaggio nella storia cittadina e nazionale presentandoci tanti personaggi a cui sono state intitolate vie e piazze evidenziando i grandi meriti che alcuni di essi hanno per aver migliorato e fatto prosperare anche la città di Tolentino vediamo invece ora le previsioni meteo per domani e dopo la pausa pubblicitaria lo sport Previsioni per venerdì primo dicembre cielo poco parzialmente nuvoloso precipitazioni assenti con temperature in aumento venti sud occidentali di vento moderato teso con raffiche fino a burrasca mare mosso